Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo proprio accanto al posto di Padre Pio all'interno del refettorio antico del convento dei frate i minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo nell'andare a leggervi uno stralcio di una lettera del 1913. In questo periodo il giovane frate minore Cappuccino si trovava a Pietrelcina, lo sappiamo, questa strana malattia che non gli permetteva di vivere in convento e quindi lui era costretto, attraverso questa malattia permessa dal Signore, a vivere a casa, a vivere in famiglia nella sua terra natale. E c'è una risposta che dà Padre Pio, che era già sacerdote da circa tre anni, al suo padre provinciale, nonché padre spirituale, padre Benedetto. Ecco, lui esprime in questa lettera a Padre Benedetto qualche giorno prima il motivo del suo silenzio, che Padre Pio lamentava sempre, anche con Padre Agostino, perché il padre provinciale non mi scrive. E nella lettera precedente, a quella che stiamo per leggere, Padre Benedetto gli spiega questo motivo. Infatti vado a leggere giusto uno stralcio della lettera di Padre Benedetto. Io t'acqui apposta per farvi sperimentare quanto è doloroso il silenzio degli altri sulla propria incertezza e farvi quindi argomentare che a me dispiace qualunque reticenza che tenga in sospensione il mio spirito. Mentre poi vi lamentate del mio silenzio a vostro riguardo, continuate a tacere per me, anche nell'ultima, sebbene mi sia raccomandato, scrivendomi di compiere la locuzione del Signore. Cioè, gli chiedeva cosa accadeva in questo dialogo e Padre Pio taceva. Ma in questa lettera, finalmente, Padre Pio scrive Per la locuzione del Signore al vostro riguardo, non vogli riferirvi il resto, perché so del male che avrebbevi arrecato nello spirito. Ma già che voi mi ordinaste che l'avessi compiuta, vogli fare la prova a riferirvi il resto. Ma il Signore, che si serve anche di questi cosacci per impedire il male, volle questa volta appunto servisti di costoro per ciò fare. Ne feci la prova varie altre volte. E quegli apostati impuri sempre mi hanno violentato. Ne ho mosso lamento a Gesù e questi mi ha severamente aggredito e fortemente mi ha fatto intendere che lui ha dovuto servirsi appunto dei suoi nemici per impedire che i suoi ordini non venissero trasgrediti da questo meschinello. E poiché io, alquanto stizzito, gli ho detto che dovevo obbedire, perché era un superiore che mi comandava, lui senza offendersi, punto, di questa risposta un po' risentita, mostrandomi un dolce sorriso. Lo vuoi? Mi ha detto figlio il mio. Provatici. Te ne do licenza. Non avrai più violenza dai demoni. Lieto di avergli strappato questo permesso, mi metto a tavolino per iscrivere. Ma che? La chiara locuzione che si viva la tenevo scolpita nella mente, mi si è allontanata del tutto da essa da non ricordarmi più nulla. Sospettai allora, sebbene l'animo che mi manteneva tranquillo mi avesse detto il contrario, che fosse anche questo un giochetto dei brutti demoni. Abbandonai il proposito per allora di scrivere, mi alzo e mi metto a passeggiare per la stanza, cosa strana. La locuzione è lì scolpita chiaramente nella mente, mi seguo nuovamente, prendo la penna per iscrivere e il fenomeno si ripete, esasperato per questo cado in ginocchio dinanzi ad un'immagine del Sacratissimo Cuore di Gesù struggendomi tutto in lacrime e di lamenti col dolce Signore perché aveva permesso a quel cosacci non solo di violentarmi nuovamente ma ancora di ingannarmi. Sospettavo che il permesso avutone di provarmi a scrivere fosse stato inganno del male spirito ma Gesù mi ha perso di nuovo e mi ha detto Non temere, io sono quello stesso che ti è apparso poco innanzi e che ti ho parlato di provarti a scrivere. Come mai tu hai potuto sospettare della verità? Quando imparerai a distinguere la voce del tuo padre e del tuo sposo? Queste poche parole sono state sufficienti a dissipare in me subito ogni timore. L'anima gode una pace indescrivibile. Poi Gesù continuò Sono io che ho agito questa volta nella tua mente per farti intendere che tu nulla puoi quando ti proibisco di fare qualcosa. Adesso non oserai il trasgredire i miei ordini. Riferisci al padre tuo fedelmente tutto quello che ti è andato svolgendo in te. Egli non oserà più importi di terminare la mia locuzione. A lui gli basta quel che per ordine tu gli trascrivesti. E continua così padre Pio al suo padre spirituale lasciando il virgolettato State tranquillo padre mio e calmate le ansia del vostro spirito poiché tengo a dichiararvi che ho tutti i buoni motivi per credere che siete bene accetto al Signore. Mi avete sommamente afflitto delle vostre paterne, sì, ma assai dure riprensioni. Lo sa il Signore quante lacrime vado spargendo per voi massime da che vi ho viso afflitto. Non debbo mettervi a pregare per non presentarvi a dolcissimo Gesù. Non ho asceso mai all'altare senza raccomandarvi viramente al Celeste Padre. Grazie a tutti.